Settembre 2018, il report mensile dell'MV Trade in grafica, ottimo l'inizio, 5 trade positivi su 5, quelli del 3, del 4, del 5, del 6 e del 7 di settembre, poi l'arretramento sino a far tornare in equilibrio totale il mese tra l'11 e il 25, 6 trade in perdita e 1 in profitto. Gli ultimi due trade decisivi, quelli del 26 e del 28 settembre, di fatto ci hanno fatto chiudere il mese di settembre positivamente, i 14 trade eseguiti di fatto ci hanno portato agli 8 in esito positivo, 6 in perdita, l'approfitto è del 4%, 400 euro in un conto di 10.000 euro, il record di trade consecutivi positivi è 5, da quello di inizio mese del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 di settembre 2018, il record di trade consecutivi in perdita è 4, da quello del 14, 18, 19, 25, questo è il periodo più critico del mese, il rendimento meglio per ogni trade eseguito è di 28,57 euro, profit factor 1,33, net profit a 2, questo è quello che è successo a settembre 2018, questo è il report mensile di MWTrade.